Commenti sulla partita, sconfitta difficile di girare forse anche per Gigi? Sì, sì, diciamo, come ho detto prima, è una partita che siamo entrati un po' non con lo spirito esatto, penso perché eravamo ancora fuorrendoci dalla partita contro gli USA che ci ha fatto male, diciamo, e diciamo, volevamo vincere per Gigi. Una partita fatta di parziali, siete riusciti a un certo punto a rientrare in partita? Cosa pensi vi sia magari mancato quando loro hanno fatto lo strappo finale? Sicuramente hanno fatto dei canessi da tre punti che hanno creato un break, Vertanz ha fatto un paio di tripe molto complicate, però c'è da aspettare solo un giocatore del genere, però, insomma, il basket è così, non ci può fare. Abbiamo visto stasera bei minuti di Gabri, tanta presenza, rimbalzo offensivo, tanta aggressività, ci dici qualcosa sulla sua partita? No, io, insomma, sono il primo che crede in lui e non sono per niente sorpreso di quello che fa in campo e di quello che può portare una squadra, credo tanto in lui e sicuramente è un giocatore assurdo, quindi non c'è niente da dire.